E' vero che solitamente quando siamo in altre parti d'Italia vi dico, beh forse a quest'ora state di giugno, non avete andato, ma voi avete mangiato ciasi, forse avete mangiato un po' pesante. Allora io vi inviterei a formulare diversamente questo modo insieme ai maestri. Visto che siamo in piena nuova, facciamo un cuore proprio chiuso. E' vero che sono in piena nuova, non avete mangiato, non avete mangiato, non avete mangiato. Lei è uno scamotaggio, è uno scusso per far cantare, pure non si mette scuola, no? Un buco chiuso non si vede, magari non si sente di là. Vabbè va, allora voi ti riponete a cantare luce e spiegare. Vabbè va, allora voi ti riponete a cantare luce. Vabbè va, allora voi ti riponete a cantare. 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 Croitu Giornale Grazie.